Buongiorno, mi chiamo Ferenzo Allaro, sono il direttore organizzativo di Concommercio Milano. Perché questa iniziativa è perché Concommercio è coinvolta, perché Concommercio oltre a credere nella cultura e in tutte le sue espressioni, crede nella contaminazione e quindi nella necessità di fare rete perché le imprese commerciali facciano rete tra di loro e non solo promuovono la cultura ma usufruiscono della cultura per fare un'attività complessiva di rapporto col territorio e con la cittadinanza. Iniziative come Blair Art sono l'esemplificazione di questo concetto, per cui ci sono attività commerciali che ospitano mostre culturali, ci sono attività culturali che all'interno di una realtà commerciale propongono quello che sono le loro opere e questo va a beneficio della cultura nel suo insieme, della città nel suo complesso e di quello che è il territorio e la puizione positiva del territorio. Su queste cose Concommercio, Milano in particolare, ci starà sempre e sempre ci è stata e promuoverà sempre e volentieri questo tipo di manifestazione.